Shalom, Shalom, Shalom. E i miei doppi onori agli Apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità che sto per condividere. Questa lezione sarà basata sulla rincarnazione. E sì, la Bibbia parla di rincarnazione. In altre parole, la rincarnazione è biblica. Come dico in molti dei video che faccio, il messaggio arriverà a coloro che sono stati destinati a riceverlo. Questo messaggio non è per tutti. Anzi, le scritture dicono che solamente un terzo della casa di Israele e 144.000 eletti saranno salvati da quello che sta per accadere. che sarà la seconda morte, la fine di questo regno e il risorgimento di un nuovo regno. Perciò, questo regno è già alla sua fine. Essendo che solo un terzo e 144.000 eletti saranno salvati dalla casa di Israele, non aspetto che questo messaggio sia per tutti. Coloro che la riceveranno, la riceveranno. E sì, vado avanti velocemente iniziando qui, leggendo il libro di Matteo, capitolo 11, versetto 11. E vorrei basare questa lezione più o meno sulla vita di Giovanni Battista, Giovanni Battista, ok? E dalla forza di Yehovah Hashem Yehovah Shai, vi farò sapere chi era prima di essere Giovanni Battista, ok? Beh, inizio a leggere. In verità io vi dico che fra i nati di Dona non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. In questo versetto sta parlando di quando i Romani hanno preso Gerusalemme, hanno distrutto Israele, hanno preso tutto, ok? Che se volete capirne di più, ne ho fatto già un'lessione al passato riguardo i malvagi. Nell'altro vedete questa storia qui. Continuo leggendo. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, ok? Se lo volete accettare, egli è Elia che doveva venire. Chi ha orecchi può dire Oda. Questo è il figlio del padre, Yahawasai, che parlava, ok? E qui è molto importante. Vedete, lui dice, se volete accettare, Eli è Elia che doveva venire. Chi ha orecchi può dire Oda. E quando, vi ripeto di nuovo, quando le scritture parlano di... Cioè, quando vi ho detto questa parola, chi ha orecchi può dire Oda. È la stessa cosa che ho detto prima, che questo messaggio non è per tutti. A tanti capiranno e lo accetteranno, e altri tanti no. Anzi, a pochi capiranno e accetteranno. E andiamo a farvi vedere che, sì, è stato profetizzato questa cosa qua, che Elia doveva ritornare, ok? E ora andiamo a vedere dal libro di Malachia. Capitolo 4, versetto 5, che si legge. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore. Giorno grande e terribile. È questo che vi parlavo prima. Ma vedete prima qui. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore. E qui abbiamo letto, prima, nel primo libro di Matteo, 11, 11, 14, che dice, se lo volete accettare, è lì, è l'Elia che doveva venire. Perciò coloro che sapevano la verità aspettavano questa profezia, ok? Che doveva, scusatemi, Malachia 4, 5, conoscevano questa profezia del profeta Malachia che diceva che prima del giorno del Signore doveva già arrivare il profeta Elia, ok? Ma quando è arrivato, è arrivato come Giovanni il Battista e la gente non lo riconosceva. L'unico che l'ha riconosciuto era il figlio del Padre, Yahawashai, ok? E vedete che la fine di questo regno è da tanto che è già iniziato. È da tanto che è già iniziato, ok? Perciò se è da tanto che la fine di questo regno è iniziato, vuol dire che siamo proprio alla fine, fine, finale. E tutte le profezie che devono avvenire è successo già tutto. Aspettiamo proprio quando il vaccino sarà obbligatorio poi il microchip è il punto che stiamo aspettando. Quando il microchip sarà obbligatorio per tutti allora sappiamo che la fine è già proprio arrivata perché tutte le altre profezie si sono già avvenuti, ok? E andiamo avanti a leggere. Torno al libro di Matteo Stavolta leggo da capitolo 17 e versetto 10 E i discepoli gli domandarono perché dunque gli iscrivi dicono che prima deve venire Elia ok? Era quello che abbiamo visto prima nel libro di Malachia che il profeta Malachia aveva profetizzato che doveva venire e ritornare Elia ma quando ritorna Elia non è che avrà lo stesso nome di Elia ritorna e di solito quando uno torna di nuovo nella vita dimentica tutta la sua vita passata ma rimane ma rimane con lo stesso spirito che aveva prima e arriveremo là andiamo avanti e i discepoli gli domandarono perché dunque gli iscrivi dicono che prima deve venire Elia e gli rispose certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa ma io vi dico Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro il figlio dell'uomo è quello che sta è Yahawashai il figlio del padre Yahawashai è lui che sta parlando qui e lui sta dicendo e la stessa cosa succederà a lui che lui verrà ritornerà perché era già in vita una volta che la prossima lezione sarà basata su la sua rincanazione ok e intanto ci concentriamo qui dove siamo dice che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro e allora i discepoli capirono che Elia aveva parlato loro di Giovanni il Battista avete visto coloro che hanno l'orecchio che odano perché questa è la Bibbia sto leggendo dalla Bibbia nessuna religione vi parla di queste certezze qua nessuna chiesa vi parlerà di queste certezze perché la verità non ce l'hanno e nella Bibbia e nella scrittura ma non lo vedranno perché la conoscenza di questa verità è data a pochi come vi ho spiegato prima qui state capendo il punto e qui Yahweh dice allora i discepoli capirono che Elia aveva parlato di Giovanni il Battista ok ora andiamo a vedere che fine ha fatto Giovanni il Battista perché Giovanni il Battista è venuto e qui dice che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro perché per l'ennesima volta vi dico la casa di Israele soprattutto ci ne sono ma tantissimi malvagi siamo un popolo con il collo rigido ok aiutiamo i malvagi a compiere tutti i male e siamo diventiamo spesso ancora peggio dei malvagi questi sono i figli di Israele quando gli dici la verità loro girano contro di te perché vogliono continuare a vivere nella menzogna vogliono continuare a vivere nel sistema ok che è la bestia vogliono cominciare a continuare a vivere come fanno le altre nazioni e si dimenticano subito che hanno un Dio un potere il creatore di tutto Yahweh ok ora andiamo a vedere che fine ha fatto Elia e leggiamo scusatemi anzi leggiamo lì qui Matteo capitolo 14 lì si trova ecco e si legge in quel tempo in quel tempo Erode e Tetraka udì la fama di Gesù che è Yahweh e disse ai suoi servi costrui è Giovanni il Battista egli è riuscitato dai morti perciò agiscono in lui le potenze miracolose ok quando ha sentito della fama di Yahweh lui dice che questo dovrebbe essere Giovanni il Battista perché loro conoscono bene Giovanni il Battista quando era vivo ed ecco cosa hanno fatto a Giovanni il Battista leggiamo dai versetti a continuare perché Erode fatto arrestare Giovanni lo aveva incatenato e messo in prigione a motivi di Erodida Erodida moglie di Filippo suo fratello perché Giovanni gli diceva non ti è lecito averla avete capito allora Erode era il Tetraka tipo il governo ok tipo il governo a quell'epoca e lui ha messo in catena in prigione Giovanni il Battista perché Giovanni il Battista l'ha detto che lui non poteva avere la moglie di suo fratello ok non era lecito averla lo stava dicendo la verità e si vede che la verità l'ha bruciato e fa parte anche comunque fa parte dei comandamenti non andiamo lì adesso e questa cosa l'ha bruciato l'ha incatenato l'ha messo in prigione e benché desiderasse farlo morire temete la folla che lo considerava un profeta allora voleva già ucciderlo ma non poteva perché la folla lo considerava un profeta allora mentre si celebrava il compleanno di Erode la figlia di Erode era ballone convinto e piacque a Erode allora questa sarà un'altra lezione di un altro giorno il compleanno e andremo a parlare di chi era Erode comunque senza tirarlo lungo Erode allora Erode era un'edomita perché questa epoca dovete capire che i romani avevano già preso controllo di Gerusalemme della terra di Israele e cosa fanno i romani quando prendono controllo di una città mettono governi loro a governare sul popolo perciò Erode era un'edomita e la loro tradizione era quella di fare il compleanno che non è la tradizione degli ebrei non è la tradizione nostra di celebrare il compleanno noi celebriamo il compleanno sono i pagani ok i figli di Esau che celebrano questa cosa qua perciò mentre si celebrava il compleanno di Erode la figlia di Erode adà ballò nel convinto e piacque a Erode ed egli promisse con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto e la spintava da sua madre e disse dammi qui su un piatto la testa di Giovanni e Battista ok avete visto la figlia di di questa donna che ha preso l'Erode ha ballato nel suo compleanno e gli ha fatto impazzire così a giurare a lei di riuscire a farla a darle qualsiasi cosa che vuole ok la madre l'ha convinta di chiedere la testa di Giovanni Battista su un piatto avete capito che mondo siamo il re ne fu rattristato ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione la sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre ok i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono poi vennero a informare Yahabashai ok avete visto questo è successo a Giovanni Battista ok che nella sua vita prima era Elia ricordatevi ok e ora andiamo a leggere libro di Matteo sempre no leggiamo questa volta da 16 ok e versetto 13 ok poi Yahabashai è giunto nel di turno di casseria di Filippo domandò ai suoi discepoli avete visto comunque questi nomi qua perché questi nomi c'erano perché i romani avevano già preso controllo totale della terra ok hanno preso controllo totale diciamo dai 67 avanti Yahabashai che si direbbe 67 avanti Cristo prima di Cristo ok poi Yahabashai è giunto nei di torni di casarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo questo è Yahabashai che chiede ai suoi discepoli dice chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo che questo figlio dell'uomo rappresenta lui essi risposero alcuni dicono Giovanni e Battista altri Elia altri Geremia o uno dei profeti ed disse loro e voi chiedete che io sia ma prima di andare avanti secondo voi i suoi discepoli erano ubriachi che dicevano queste cose qua no dicevano questi nomi qua perché loro sapevano della rincarnazione infatti 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 a quell'epoca tutti israeliti conoscevano che la rincarnazione era biblica che uno dopo la morte tornava come un'altra persona tenendo sempre con sé sempre lo stesso spirito ok perciò chi è cattivo tornerà sempre cattivo chi era retto tornerà retto che arriveremo là al versetto anche ed egli disse loro e voi chiedete che io sia simon pietro rispose tu sei il messia la parola cristo vi avevo detto che rappresenta vuol dire messia e non ha nulla a che fare con questo cristo che è una parola creata poi e vi ho detto da dove proviene ok e dice tu sei il messia il figlio del Yahweh il potere vivente ok bene io spero che state capendo il punto che la rincarnazione è biblica ok e fino a qui dove siamo arrivati alcuni avranno già capito anche senza andare avanti ma per motivo per coloro che ci mettono un po' di più per capire le cose vado avanti a tirare fuori altri versetti e stavolta leggo dal libro di ecclesiaste ok capitolo 1 e vado direttamente in versetto 9 che dice ciò che è stato è quello che sarà ciò che si è fatto è quello che si farà ok ciò che è stato è quello che sarà ciò che si è fatto è quello che si farà non c'è nulla di nuovo sotto il sole c'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda questo è nuovo quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto e qui è la bomba versetto 11 non rimane memoria delle cose d'altri tempi così così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi avete visto questo palla c'è è un punto fortissimo sull'incarnamento l'incarnamento l'incarnazione ok avete visto dice che c'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda questo è nuovo quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto preceduto non rimane memoria allora la gente può dire che qui sta parlando di quello che è stato prima quello che c'è adesso c'è stato anche prima sta parlando anche delle persone qui che sono le persone che hanno la memoria ok e dice non rimane memoria delle cose d'altri tempi così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi io spero che con questi punti riuscite a capire e sempre sul stesso libro vado su capitolo 6 leggo velocemente versetto 10 che dice ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo ed è noto che cosa l'uomo è avete visto ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo ed è noto che cosa l'uomo è è che non può contendere con colui che è più forte di lui andiamo a vedere un'altra versione delle scritture qui prendo la Diodati 1885 che dice già fu posto nome all'uomo ciò che egli è ed egli è noto che essi nome fu Adamo ed egli non può litigare con ma vedete qua vi fa vedere come come sono le scritture italiane come si grazie al Vaticano sono riusciti a nascondere a girare tutto in diverse maniere vedete che sta parlando di assolutamente niente non ha nulla a che fare con Adamo e lì c'è scritto invece Adamo questo vi fa vedere che coloro che governano i figli di Esau i malvagi fanno di tutto per sviare i figli di Israele dalla verità qui dice ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo ed è noto che cosa l'uomo è ok sta parlando di noi uomini ok vado a leggervi dal libro di Geremia Geremia 1 versetto 5 che dice che dice prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre io ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal suo grembo io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni ok andiamo a vedere un'altra versione qui che è sempre bello sempre giusto vedere diverse versioni e qui dice prima prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre io ti ho conosciuto e prima che tu uscissi dal suo seno io ti ho consacrato e ti ho costituto profeta delle nazioni e dice la stessa cosa ok queste nazioni che dice sono le dodici tribù di israele ok perciò questo è il padre che parlava al profeta Geremia noi prima di essere qui eravamo già ok perciò con lui chi era giusto quando torna nell'altra vita dimentica tutto non si ricorda niente ma sarà sempre uno giusto e chi è malvagio rimane malvagio se ti nasce in israele israelita sarai israelita se eri edomita non puoi nascerti un'altra nazione ti nascerai sempre la stessa nazione che sei magari verrai nato su un'altra terra altrove ma sarai sempre israelita che sei sarai nato da genitori israeliti ok così funziona e per darvi la prova di questo vado a leggervi velocemente il libro di Apocalisse 22 la fine 22 e versetto 11 chi è ingiusto sia ingiusto ancora chi è contaminato si contamini ancora chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora avete capito chi ha orecchie oda ho detto questo messaggio non è per tutti ma coloro che capiranno capiranno qui sta parlando della rincarnazione chi è ingiusto sia ingiusto ancora chi era ingiusto chi è dato chi nella vita precedente era ingiusto sarà ingiusto chi è contaminato si contaminerà ancora chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora ok posso andare avanti a tirarvi altri versetti ma leggo un versetto sempre dal libro di Apocalisse e chiudo poi se avete domande dubbi se non vi torna posso sempre fare un altro video che va in più profondità comunque il prossimo video che vorrei fare sarà basato di chi era Yahawasha nella sua vita prima ok che è tutto sempre basato sulla rincannazione e qui leggo da versetto 7 ok il versetto 17 dice ecco Eli viene con le nuvole questi sono i cosiddetti UFO ho già fatto un video e se vuoi capirne di più basta andare a vedere altri video ok ed ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo trafisserò scusatemi come fanno a vederlo quelli che lo trafisserò se se siamo in un'altra generazione questo vuol dire che si saranno reincarnati e saranno presenti ok infatti qua si leggo ancora ecco Eli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno col d'olio per lui questo è il punto anche quelli che lo trafissero ok questi sono israeliti ricordatevi quelli sempre i romani tutti quelli che lo hanno trafissero saranno presenti infatti c'è uno sito che ho visto che è il sito della popolazione mondiale cioè quest'anno 2020 è l'anno in cui non c'è mai stato una sovra popolazione nella storia della terra come siamo adesso cioè si dice che la popolazione di noi umani si raddoppiato raddoppiato in una maniera che non siamo non eravamo mai arrivati a questo punto e appena ho letto questa cosa mi è venuto subito in mente che il padre sta facendo sì che saranno pronti tutte le anime per vedere il suo ritorno ok il ritorno del suo figlio Yahweh Shai che è stato crucifisso ok perciò io spero che questa lezione vi ha in qualche modo edificato vi ha aperto gli occhi e siete riusciti a capire questo fatto della rincarnazione che è biblica ok prima di chiudere c'è un altro versetto che adesso andiamo a vederlo scusatemi non trovo le parole scusatemi allora e cosa sto facendo qui beh anzi andiamo a vederlo velocemente allora generazione scusate scusatemi ah si trova nel libro di Deuteronomeo 5 9 perciò qui dice non ti prostrare davanti a quelle cose e non servir loro perché io le teno il tuo potere sono un potere geloso che punisce punisco iniquità dei padri sopra i figliori fino all'altezza e alla quarta generazione di quello che mi odiano qui ci vuole ci vuole la sapienza divina per capire quel versetto là il padre è giusto ovviamente non punirà qualcuno altro per i peccati di qualcuno altro ognuno sarà responsabile dei suoi peccati quello che dice qui è che coloro che fanno male anche se non vengono puniti adesso verranno puniti quando ritorneranno come i figli ok quando ritorneranno nelle terze e le quarte quarta generazione qui parla di rincarnazione ok parla proprio di rincarnazione e non è proprio diretto che mio padre deve pagare i peccati del figlio ok sta parlando proprio ecco perché c'è alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano di quelli che mi odiano avete visto perciò infatti se guardate tanti si nascono cerchi tanti si nascono imbecilli tanti si nascono con diversi problemi cari fratelli vi dico questi stanno pagando per quello che hanno fatto nella vita prima che hanno vissuto questi sono i giudizi del padre ecco tanti dicono ma perché il padre lascia che la gente soffre perché il padre lascia che la gente si nasce povera perché il padre lascia che la gente si nasce down queste cose qua queste sono le punizioni della vita che ha vissuto prima io spero che questo messaggio vi sia chiaro e spero tanto che l'avete capito che la rincarnazione è biblica ok la rincarnazione è biblica e detto questo spero che siete stati edificati alla prossima e do tutti i lodi tutti i ringraziamenti al padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai ok e pace alla casa di Israele coloro che cercano con sincerità questa verità qui e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone coloro che mi insegnano questa verità Shalom Shalom